Non amo i riti, non amo passare e far rappresentare la presenza delle istituzioni e poi magari non cogliere quello che di importante, di suggestivo la platea e i relatori rappresentano su un tema che in Puglia, ma io penso nel paese intero oggi riveste un'importanza straordinaria. E quindi rimango qui seduta, non risponderò alle domande di Ricci, ma cercherò di raccogliere le suggestioni che dal confronto e dal dibattito sono emerse. Parlare della Puglia non penso oggi ci aiuti in qualche maniera a raccogliere la sfida dei prossimi mesi e del tempo che verrà. Lo dico con la consapevolezza degli sforzi che in questa regione abbiamo compiuto anche rispetto alla nostra capacità di raccogliere la sfida dell'innovazione e della modernizzazione in un tempo così difficile e così complesso con un'eredità che pesa in maniera rilevante sulla storia della qualità dei servizi di questa regione. Io invece voglio provare a ragionare a voce alta su alcune questioni che sono emerse in maniera importante. Quale futuro per la sanità pubblica? Comincio di qua perché la mia cultura politica rimane dentro una robusta intelaiatura che parte dalla declinazione universalistica dei diritti, dalla possibilità che un sistema pubblico deve offrire a chiunque a prescindere rispetto alla domanda di salute. sta dentro anche una vocazione mai sopita, quella che conferisce al pubblico la responsabilità di scrivere le regole del gioco anche attraverso un governo diverso e differente della spesa. Sopravviverà la sanità pubblica? Questa idea mi angoscia, questa domanda, questo interrogativo angoscia la mia cultura politica. riusciremo ad evitare una evoluzione così come sta accadendo in altri paesi che sposta sempre di più sul versante del mercato, tra virgolette, la risposta alla salute. aggiungo, il mercato non mi spaventa, voglio confrontarmi col mercato, ragionare in termini finalmente per davvero di efficace integrazione tra la configurazione delle risposte, ma rimane l'interrogativo molto angosciante rispetto a quale sarà la configurazione del sistema sanitario nel prossimo futuro. e come dire, l'ansia è motivata, è giustificata, se è vero come è vero, lo dicevano anche gli interventi molto colti e importanti che ho ascoltato stamattina, se è vero come è vero che in questo paese le politiche per la salute vengono, come dire, confezionate non sui tavoli, diciamo, delle competenze, ma sui tavoli di chi, come dire, ogni giorno sfila quella tela che con grande fatica, no? noi tessiamo per poter riconfigurare anche, come dire, in un contesto, diciamo, di equilibrio, di bilancio il nostro sistema. Parlo della nostra esperienza, ormai, come dire, abbiamo attraversato il tunnel dolorosissimo del piano di rientro in una regione che è entrata in piano di rientro, non per il disavanzo sanitario, e abbiamo pagato un prezzo elevatissimo. Certo, in questo passaggio abbiamo, come dire, anche affrontato il tema della riorganizzazione difficile in contesti in cui, diciamo, il posizionamento culturale di una classe politica che, come dire, non ha il coraggio, no? Di affrontare in maniera vera, concreta e anche appassionata il tema, diciamo, no? Della configurazione, della declinazione dei diritti ci pone in una situazione di grandissima difficoltà. Ancora oggi prevale il tema, come dire, della lettura campanilistica, come se, diciamo, un ospedale possa essere ancora considerato, no? Il luogo unico della risposta ai bisogni di salute. Noi attraversiamo ancora questo mare, come dire, agitato, complesso, qui a Trani dove abbiamo affrontato, come dire, no? Un percorso che forse, diciamo, ci restituirà il senso, no? Di una scelta importante. Abbiamo ancora, diciamo, problemi di, diciamo, conflitto tra un posizionamento che solo apparentemente è posizionato sul tema, no? Della difesa del diritto alla salute, ma poi nasconde molto spesso piccoli, diciamo, e insopportabili interessi di bottega. Perché, come dire, c'è ancora questo. E lo dico, diciamo, in un contesto molto particolare dove, come dire, ci affrontiamo, ci accingiamo ad affrontare una sfida anche culturale che non può non essere l'unico strumento, diciamo, possibile per cambiare, appunto, il sistema. E allora, come dire, ci troviamo di fronte al tema, per esempio, semplifico, delle liste di attesa. Come può reggere il pubblico, no? In termini di qualità, di efficacia e di efficienza, se un sistema non riesce a riorganizzarsi per dare risposte in tempi, no? Come dire, giusti, accogliendo la legittima domanda di salute del cittadino. Come possiamo oggi, come dire, affrontare questo passaggio se tra la classe medica, io sono un medico, quindi non sono, come dire, una politica di professione, sono una pediatra orgogliosa, diciamo, dei miei trascorsi professionali. Come possiamo affrontare, per esempio, no? Da una visione, diciamo, pubblica del tema, come possiamo affrontare, appunto, il problema delle liste di attesa se dobbiamo, come dire, ancora confrontarci con una cultura anche sindacale che, consentitemi, su alcune questioni è su posizioni di retroguardia. E lo dico perché noi potremmo affrontare in maniera più spedita in tempi certamente più ragionevoli la soluzione ad alcuni problemi, ma ci troviamo, no? A combattere tra un livello culturale. No, parlo del sindacato in generale che oggi, diciamo, è arroccato su una difesa molto spesso strumentale, no? Diciamo, dell'organizzazione del lavoro e dei diritti è un pezzo, diciamo, di società che non riesce a cogliere il tema, appunto, della sfida dell'innovazione. Se non riusciamo a mettere in ordine i pezzi del sistema, come dire, l'idea della sanità pubblica imploderà, imploderà non solo per i costi, ma imploderà per quello che i cittadini decideranno di fare. Allora può sopravvivere l'idea della sanità pubblica o dobbiamo in qualche maniera rassegnarci a quello che sta accadendo, non solo nelle regioni, diciamo, più evolute dal punto di vista dei sistemi organizzativi, ma anche nel mezzogiorno d'Italia. E per il mezzogiorno d'Italia, come dire, possiamo pensare, no, ad una grande battaglia che non può non essere posta ad uno Stato che ha sempre discriminato questo mezzogiorno, che ha i suoi limiti, che ha i suoi difetti, che ha le sue contraddizioni, che spende troppo e molto spesso spende male, ma un tema, come dire, non possiamo, diciamo, concluderlo, no, nella malasanità, nei casi, voglio dire, di corruzione, non è solo questo, c'è il tema della sperequazione territoriale, che questa mattina, come dire, non è emersa nella discussione, un mezzogiorno che è stato deprivato, è stato deprivato, come dire, non solo dai governi di centrodestra, scusatemi, ma anche dai governi di centrosinistra, e allora il tema del mezzogiorno e di quello che il mezzogiorno deve rappresentare, anche come, diciamo, valore aggiunto di questo Paese, ci impone una riflessione su come oggi sia, come dire, un obiettivo, quello della, diciamo, della messa in equilibrio del sistema, un obiettivo importante. Io non posso, io pugliese, non posso essere, come dire, discriminata e penalizzata rispetto ad un cittadino non residente in un'altra regione, non posso poi pagare il prezzo doppio, perché, è chiaro, se io non riesco, come dire, a ottimizzare le mie risorse, perché ho oggi una sperequazione, non solo qualitativa, perché questo non è vero, abbiamo anche noi le nostre eccellenze, ne avete raccontata qualcuna, abbiamo il limite grande di non saperle comunicare, il limite grande, no, di non, come dire, ragionare anche delle cose buone che riusciamo a mettere in campo, e sono tante, dovremmo cominciare anche, come dire, a promuovere la buona sanità di questo Paese. Se questo è vero, come dire, partirà una nuova stagione che depriverà ancora di più il mezzogiorno, perché oggi, in questo mondo, diciamo, no, che non ha più barriere, questo mondo che ci offre la possibilità di arrivare anche in un Paese lontano, spendendo, investendo, poche centinaia, no, di euro, molti saranno, come dire, attratti da livelli di qualità che, come dire, noi non riusciamo ad offrire in un contesto, diciamo, di perequazione regionale, perché è vero che in alcuni ospedali pugliesi, in uno particolare, come emerso in un recente articolo che, come sempre, puntualmente, si affaccia sulla stampa, no, e che penalizza il nostro sistema regionale, no, è vero che in un ospedale la sopravvivenza, diciamo, ad un mese per l'infarto acuso del miocardio superava abbondantemente la media nazionale, ma è anche vero che un altro ospedale, Toscano, che certamente è un'eccellenza, ma ha una situazione sovrapponibile a quella pugliese, non viene messa in luce, quindi c'è anche, come dire, questa aggressione mediatica nei confronti del Mezzogiorno, perché probabilmente deve essere ancora di più impoverito, perché probabilmente, come dire, no, dobbiamo, no, tener dentro quella Italia, quel pezzo d'Italia, e poi, voglio dire, diciamo, una comunicazione corretta doveva raccontare altre storie, doveva raccontare che se andiamo, come dire, ad analizzare i dati dell'intera regione regionale, poi tanto male non siamo messi, perché siamo secondi, appunto, alla Toscana come percentuale di sopravvivenza. E allora, lo dico da meridionale, da professionista, da, come dire, da rappresentante delle istituzioni, per davvero dobbiamo, come dire, riconsiderare il ruolo e anche la prospettiva del Mezzogiorno, perché altrimenti, come dire, il risultato è scritto, è nella storia. Se fosse passata quella manovra, noi avremmo, come dire, dovuto consegnare i nostri libri in tribunale, con un impavorimento delle competenze, anche, come dire, della quantità delle risorse umane, sarebbe anche venuto a meno lo sforzo che in questi anni abbiamo fatto e che è costato all'intero sistema, ma soprattutto ai cittadini, qualche passaggio, diciamo, doloroso. Dobbiamo ripensarci, la politica deve ripensarsi, le istituzioni devono rimettersi in gioco, il sistema delle professioni, no, deve riconnettersi con quella politica che, come dire, non si rassegna, ma vuole pensare anche che nel Mezzogiorno si possa realizzare un profilo di qualità differente dal passato, con gli attori, con tutti gli attori, col sistema pubblico, col sistema dell'offerta privata, con il sistema delle professioni, no, e dobbiamo gettare la maschera. E' vero che bisogna mettere a valore, no, alcune competenze che oggi sono centrali se per davvero vogliamo connettere l'ospedale con il territorio, se vogliamo offrire una presa in carico, no, della cronicità che stia dentro la qualità del servizio, l'efficacia, l'efficienza e l'abbattimento dei costi, ma dobbiamo anche capire che se fallisce il sistema, no, perdiamo tutti, non perde solo il sistema, diciamo, dell'offerta pubblica, perde il sistema complessivo, ci perderanno i pediatri di base, ci perderanno i medici di medicina generale, qui nessuno deve sentirsi, come dire, messo al sicuro rispetto ad un'aggressione, diciamo, che da questo punto di vista, dal mio personale punto di vista, è un'aggressione al sistema dei diritti e della dignità delle persone, come conciliare questo approccio culturale col tema economico e con la lettura che voi avete oggi rappresentato, penso che in questo contesto, per davvero possa nascere, possa nascere, come dire, un'idea nuova, soprattutto per il Mezzogiorno d'Italia. Porto via altre suggestioni questa mattina, la necessità di innovare il sistema anche attraverso una scelta, diciamo, ormai irrinunciabile, che è quella della semplificazione. Allora, noi siamo imbrigliati. Se il direttore generale di questa AS volesse contrattualizzare un, un, come dire, un cardiochirurgo pediatra, rimaniamo, diciamo, nella mia, come dire, maggiore, maggiore propensione professionale che è quella appunto della pediatria, e non potrebbe farlo. Se un cardiochirurgo giovane e valente capitasse da queste parti, il dottor Gorgoni non potrebbe contrattualizzarlo. Ma se quel cardiochirurgo giovane e valente decidesse di fare 40 chilometri, salire su un volo Ryanair e andare a Londra, sarebbe contrattualizzato, no? Diciamo, nel giro di qualche ora, non di più. C'è il tema dell'alta formazione, del nostro sistema universitario. No? Delle nostre scuole di specializzazione. E ogni anno il meccanismo diventa più farraginoso, più difficile, e perdiamo talenti? Probabilmente sì. E poi dobbiamo assistere alle file dei ragazzi, come dire, no? Che vanno in Albania. No? Oggi c'è un mercato, parliamo francamente, c'è un mercato del lavoro che tiene dentro, diciamo, no? Queste vocazioni, questi talenti. Noi non sappiamo capitalizzare queste risorse. Allora, il tema è anche questo. C'è la possibilità di programmare, no? Quanti medici serviranno per questo sistema, così articolato, così organizzato, per i prossimi dieci anni? Ha ancora senso mantenere questa mannaia del numero chiuso? Ha ancora senso, come dire, no? Non riconfigurare il sistema dell'alta formazione al netto di quello che accade nelle università italiane, no? C'è bisogno di una grande rivoluzione, che non può essere quella, diciamo, di un decreto del fare o di una legge di stabilità che poi, no? Non ci dà le opportunità e le occasioni per riscattare una storia. Anche su questo dovremmo, no? Interrogarci e dire, diciamo, alla politica quella che sta un po' più a nord, che di questo passo il Paese, diciamo, sprofonderà completamente, se non affrontiamo il tema dell'innovazione, della modernizzazione, della semplificazione, che sono, a mio avviso, poi, la precondizione per cui alcuni processi poi possano realizzarsi. Così come siamo combinati, certamente non potremmo dare rischio. Assumere un medico è diventato, come, diciamo, vincere all'enalotto, no? Selezionare una professionalità, magari ti espone ad un giudizio della magistratura. Anche questo è un altro tema che dobbiamo mettere sul tavolo complessivo della discussione. Possiamo continuare con queste procedure di selezione così come abbiamo conosciuto in questi anni? Come il pubblico può, no, aprirsi ad una visione diversa se non cambia le sue regole? Grazie. Grazie.